amici di corse di moto tv siamo a secondo round del virus power cus cioè il campionato italiano velocità in salita siamo allo spino e continuiamo nel percorso conoscitivo delle moto un po più particolari quindi abbiamo con noi il due volte che per italiano nicola fongaro ciao nicola ciao ciao a tutti allora nicola questa è una cagiva dell 81 2 mezzo lo vedete è chiaramente una moto d'epoca è un po di stagioni che corri con questa moto vincendo peraltro illustraci un po le sue caratteristiche tecniche dove l'hai trovata perché hai scelto questa moto allora diciamo questa è una cagiva che nasce come stradale nell 81 aveva comunque il manubrio alto moto turistica e noi l'abbiamo adattata per fare le corse perciò abbiamo montato i semi manubri il motore il motore suo di basamento 250 solo che il kit al tempo vedevano i kit per le gare di cross e abbiamo trovato il kit competizione cross che è un 250 apposta con più cavalleria ovviamente a circa una quarantina di cavalli peso della di questa cagiva allora siamo sui cento e dieci chili così molto molto leggera ma molto potenti rapporto peso potenza un gran bel rapporto sì 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 abbiamo visto in questi anni comunque i tempi li abbiamo abbassati bene insomma ogni volta che io vedo voi piloti dell'epoca a correre con queste moto la prima domanda è dove trovano i ragazzi poi i ricambi cioè di questa moto i ricambi sono disponibili facendo toccare no toccando ferro però può succedere no nicola che anche senza cadere si rompa qualcosa sì sì si può anche fare piccole rotture comunque per fortuna ci sono i mercatini d'epoca dove noi andiamo comunque ogni due tre volte all'anno a fare piccoli giri ricognizioni a vedere se ci sono dei pezzi insomma ecco telai di ricambio forcelle magari ruote ecco quant'altro poi ad esempio le gomme sono con intagli disegni d'epoca però sono mescole moderne insomma tutti gli effetti tranquillamente noi mettiamo sulle termocoperte facciamo la corsa a pari degli altri insomma mescole moderne ginocchio a terra se riesci comunque a fare una bella curva voglio dire ecco allora tu lo dicevo prima un po di stagioni che corri con questa cagiva come mai hai scelto questa moto e come mai continui a usare perché voi di solito voi piloti dell'epoca vi vedono nel paduco magari correte due stagioni con una poi cambiate progetto per trovare nuova motivazione perché hai scelto questa e perché continui a usare questa allora prima correvo con la malanca 125 ovviamente era portata un po la mia struttura era un po piccolina però per farsi le ossa andava benissimo e questa l'ho scelta un po sempre per essere una moto italiana al tempo comunque negli anni 80 è stata la prima moto come vendite per moto turistica stradale allora un po avuto l'idea di scegliere sta moto poi la cagiva comunque ha fatto una moto che ha fatto storia ecco e niente due anni adesso che la uso e con questo è il terzo e mi trovo bene più che altro anche essendo monocilindrica in erogazione in salita una moto vincente insomma ecco sogno nel cassetto se un domani dovessi cambiare moto sempre rimanendo in questa in questo frangente storico cosa ti piacerebbe utilizzare o cavalcare allora rimanendo nel frangente storico rimarrei così perché comunque un due tempi è una moto che dà soddisfazioni bisognerebbe vedere un po quelle classi d'epoca magari se vengono altri ragazzi con diciamo moto simili magari piuttosto passerei alle moderne magari sulle 300 insomma le categorie quelle lì con le yamaka 300 onda 400 che siano ecco come magari sogno nel cassetto ecco realizzare un campionato magari sulle moto moderne vedere un po sei conscio che quello che le moto a cui ti stai riferendo sono molto diverse perché sono molto più pesanti e cioè questa è proprio passabilità per una bicicletta molto potente ma ha veramente pesi e misure molto maneggevoli sì sì questa è veramente come guidare una bicicletta cioè puoi rimanere anche in sella e le curve le fai chiaro che qua hai le misure delle forcelle più strette davanti qua per guidarla insomma bisogna avere un pelo insomma il pelo sullo stomaco come si suol dire ecco ma si sfriziona tanto vero con queste moto qui nelle gare in salita? allora con i bicilindrici sì anche quando avevo il malanca dovevi sfrizionare perciò le frizioni le consumi e questo è un monocilindrico che ha di bei bassi una bella erogazione perciò li senti tutti i cavalli anche nei bassi allora anche con la strada bagnata e così è una bella erogazione una bella uscita dal tornante percentuale di vederti nel 2025 approdare alla 300 moderna? dai diciamo un 50% dai dai allora un 50% facciamo l'in bocca al lupo a Nicola Fongaro per questa stagione che è iniziata bene perché insomma lo spino no scusa a Deruta adesso adesso ho detto ho fatto questa ho detto questa cosa che porterà malissimo no non è vero a Deruta hai raccolto hai fatto buttino pieno quindi il connubio Fongaro Cagiva direi che è vincente sì sì molto ottima e rapporto peso potenza mi trovo benissimo l'ultima cosa veramente stavo già per chiudere ma c'è una cosa che mi chiedete sempre da casa in realtà perché lo sai le persone sono curiose costo dell'operazione a spanne una moto del genere tra acquistarla e poi magari fare un po' di manutenzione di che cifre si sta parlando? per i costi come moto basica trovata al mercatino da sistemare con 1000 euro la trovi anche meno insomma è chiaro che motore competizione dopo sistemarla da gara perché comunque sono moto a tutti gli effetti da gara perciò sono tirate a puntino chiaro che al minimo hai un 4000 euro per fare una moto competitiva minimo ecco insomma però sono cifre che paragonate no il mondo delle corse direi che insomma sia abbastanza aggredibile diciamo che qua il problema non è tanto la ciclistica in sei telaio ma è più che altro il fatto dei pistoni trovare i pistoni originali dell'epoca che è un pistone a cifre esagerate non so se posso dirle ma insomma no no di più o meno vai circa sui 400 euro solo per il pistone quindi Fongaro d'estate corre e d'inverno va per mercatini Novegro, Mostrescano che quelle sono certo sì sì e bisogna andare in giro trovare i vecchi appassionati o magari quelli che hanno comprato i pezzi storici perché comunque il motore sono motori competizione dell'epoca perciò insomma i costi salgono un po' lì ecco standoci attento poi insomma standoci attenti si può riuscire in qualche modo lo vedete abbiamo le dimostrazioni del paddock a correre a divertirsi in bocca al lupo Crepi saluto a tutti